A me non piace questa immagine della Tamorra che è stata messa. Pagani è la città di Sant'Alfonso, non è la città di altro. Pagani, città di Sant'Alfonso dunque. Un fatto anche di immagine, secondo il Vescovo Giudice. Il pastore di anime boccia, senza possibilità d'appello, la megatamorra che campeggia all'ingresso nord della città. Un po', in verità, c'era da aspettarsi un'uscita del genere da chi, il Vescovo, sin dal suo insediamento, ha condannato le sbavature, gli eccessi, la pericolosa commistione tra la religiosità, il costume, il colore, il folclore. Svegliati, Pagani, recupera la tua vocazione di città di Sant'Alfonso, Maria degli Guori, forte e chiaro, il messaggio lanciato dal Vescovo Diocesano, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giudice. Pagani smarrita, dice il Vescovo, Pagani distratta, Pagani inficiata da sporcizia e disordine. Il pastore della Chiesa dell'Agro indica la strada, ritornare nel solco della normalità, riguadagnando innanzitutto la propria dignità, che è quella, ribadisce a gran voce, di Pagani, città di Sant'Alfonso, in cui le parrocchie divengano piccole scuole di legalità. Sperando che Pagani riprenda la sua antica vocazione di città di Sant'Alfonso, città dell'arte, della bellezza, però ultimamente tutte queste cose io non le vedo e allora dobbiamo dare un monito e dobbiamo richiamare fortemente alla legalità, alla novità, cominciare dalle parrocchie, perché le parrocchie possono essere uno stimolo per la formazione dei giovani e delle famiglie. Le parrocchie sono case, presso le case, e hanno il compito, dal punto di vista spirituale, ma anche umano, di ricucire, direi, un rapporto che forse è stato interrotto, che noi abbiamo dimenticato. È molto importante avere queste oasi di formazione, che sono le parrocchie. Dobbiamo stare attenti all'ordinario, alle cose di ogni giorno, perché è lì che si costruiscono le comunità. Io vedo intorno troppa sporcizia, troppo disordine, vedo che tante cose non vanno bene, dobbiamo riprendere la dimensione umana e quella spirituale, ma io penso che noi possiamo fare molto, a cominciare da me e da ognuno di noi.